Che ti hanno fatto Mia? Che ti hanno fatto? Grazie a tutti. 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 E-Tan, E-Tan... Sai come si dice... La famiglia è per sempre. Rimani lì dove sei. Dove diavolo credevi di andare? E-Tan... E-Tan... È finita, ragazzo... E... 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 Grazie a tutti. Chi l'ha costruita? Chi l'ha costruita? Chi l'ha costruita? Chi l'ha costruita? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ma che... Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.